bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi è uscita per l'esattezza qualche minuto fa una manciata di secondi fa 20 secondi prima di registrare questo video il quarto supereroe della stagione numero 4 pass battaglia numero 4 di fortnite ragazzi e non è un eroe maschio ragazzi bensì un'eroina quindi una donna ragazzi abbiamo già visto in questi giorni i vari supereroi che si sono mostrati anzi che ci hanno mostrato quelli di epic games state vedendo alle mie spalle il primo susseguito poi da wonder woman ormai tutti l'hanno soprannominata così per passare poi ieri al terzo signor pizzetto ragazzi potrebbe essere aquaman o wolverine dopo essersi raso la barba beh ragazzi adesso vi vado a far vedere il quarto prima di farvelo vedere abbiamo delle teorie ragazzi che molti di voi mi stanno dicendo in chat e che pensano siano assolutamente valide per quello che riguarda questa meteora ragazzi innanzitutto è vero che stanno accadendo dei meteoriti su fortnite lo vediamo anche mentre facciamo le nostre partite soprattutto verso la fine della partita ma ragazzi quella roba la in alto siamo sicuri sia veramente una meteora molti e io condivido dicono potrebbe essere una navicella spaziale che contenga proprio i supereroi che verranno a salvare la mappa di fortnite ed è davvero così cioè la meteora se qualora fosse una meteora distruggerà dusty depot distruggerà la prodo avventurato perché era stato fatto per il capodanno cinese non lo so staremo a vedere però ragazzi andiamo a vedere la quarta eroina che ci propongono prima di farlo mi raccomando un bel like se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questo video iscrivetevi al canale per avere la possibilità di portarvi a casa un bel pass battaglia da 10 euro per la prossima stagione di fortnite che inizierà tra due giorni non la vedete bene perché alle mie spalle e questa signorina qua ragazzi ma voi non disperate quindi arriva già la quarta eroina vi ho fatto un'immagine molto più definita eccola lì ragazzi eccola lì sembra chi è questa qua wonder woman che la donna che si allunga no la donna dalle gambe aperte non lo so ragazzi chi sia non lo so però è una nuova eroina che molto probabilmente troveremo in fortnite quanto prima beh ragazzi io spero che anche questo quarto supereroe vi sia piaciuto ovviamente vi invito a commentare qua sotto tutto quello che pensate tutto quello che vi possa per la testa secondo poi quando cacchio cadrà ma se cadrà sta meteora è una navicella che supereroe arriverà adesso vedremo per caso spider man al bar non lo so ragazzi iscrivetevelo qua sotto io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo in live ciao 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 ciao